Eccoci qua, ci risiamo, sta per iniziare il Grande Fratello Vip 2 ed io sono pronta a svelarvi il primo nome del primo concorrente che è un uomo... No, io non ci credo, ma voi non siete normali, scusate ma io sto lavorando, sto facendo i promo, ma dai, mi hai chiamato un taxi? Grande Fratello Vip, acqua in bocca a settembre su Canale 5.